andate in questo nuovo video sul canale di aurare maria pia oggi nuovissima escape scappiamo dalla famiglia di poliziotti su roblox guardate qui e guardate il bebe come brutto monello ragazzi siete pronti noi siamo pronte via via si parte c'è anche la piccola aurora naturalmente c'è una leva ciao auri ok ok andiamo andiamo questo è un escape ragazzi quello invece della volta scorsa avevamo capito che era in effetti un parkour quello di spongebob che ci siamo divertite un mondo a farlo con aurora ed era bellissimo e devo dire che ha fatto anche qualche visualizzazione in più siamo molto felici mi raccomando continuate a guardare i nostri video a sostenerci iscrivetevi al canale lasciateci tanti like e proseguiamo con il nostro gioco oh mio dio io sono super raffreddata è un po raffreddata si come al solito è tipo minecraft ma te si scava come minecraft oh che brava ok aiuto osti laser devi fermare un attimo fermati in tutti i parkour che vedo ci sono sempre laser fermati vai si lo so lo so vado quando si avvicina salta bravissimo bravissimo devi saltare amore oh no che brutto un alieno vai bravissimo allora qui ci sono delle scale quando vedo delle scale ci sembra qualcosa di brutto come l'ho detto ok è tutto la parola corri 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 aiuto che brutta vai 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 che loro sono grossi non ci entrano ci entrano ok continua vai Che belli trambolini Salta Salta Uno, due, tre Bravissimo Allora No ma c'è sempre quest'alieno Ma è una vabbia Sarà un alieno Che figata questa Guardate pure Alice Guarda Alice c'è un altro pulsante Da schiacciare Dove? Devi andare là guarda Si è aperto Vai Bravissima Ma perché c'è sempre Alice? Dai Alice, lei la mano sognarla Sì lo so mamma Lo so mamma Secondo No Sono l'ubo Non c'è Robux Mamma è meglio Comerare i Robux Ah ci sono dei cani C'è pure il cane Il cane poliziotto Attenta Allora E quindi che dobbiamo fare? Io ho paura di questo cane Vai per le scale Sei stata super Brava Guarda lì cosa c'erano Terribili Vai c'è un altro trampolino Wow Che bello Un altro trampolino Boom Uno Due Ok Bel salto Uno Due Due Ma qui c'è trascavato Questa è una prigione È una fortezza Bisogna essere proprio Aurora Bravissime per scappare Io non voglio Che devo fare? Da lì devi andare Brava Ma perché sto tutto? Ma chi è quello? Non so Sarà Gingino Peloso Corri corri Sarà Gingino Peloso Ma chi è quello? Ah qui devi andare lì su Questo è papà Ah è mezzo rincretinito però No ma perché quello si compra con i Robux Ah Mo devi saltà È soppertà Non devi andare in quello verde? Ah perché è muco di Gingi Pelato Gingi Pelato? Chi è Gingi Pelato? Quello di prima con la maniera ragione Ok 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 Siamo nelle foglie di Gingi Pelato E chi è quello? Wow come bello È Gingi Pelato Ciao Gingi Pelato Guardate che dendi Ok Attenda che c'è un raggio laser Oh aiuto Aspetta vai Vado Ah Non cadere In ogni parkour Che faccio? Devi schiacciare Devi schiacciare col pulsante rosso In ogni parkour Perché non hai schiacciato il pulsante rosso? Lì schiaccia Vedi cosa è No Ti fa cacciare la scala Ah no Vedi Ho fatto cacciare Ah scusa Ah devi arrivare in quella No Brava Ma io non riuscirei a giocare Oddio dei palloni Voglio un pallone Non voglio giocare A cacciare E adesso Ma ma che c'è lì? Ma che c'è lì? Oddio Ah la devi Non devi Che è successo? E chi è lui? Si è stato preso Ma sto volando Come sei? Sei morta Eri morta Devi correre tra quelle Vai Le devi schiacciare Forza Eh perché Eh Perché se no sveglio lui Dai dai corri corri No non mi blocco Quando tocca le balle Ma che lui si sveglia Non le devi toccare allora Eh ma non è culpa mia È culpa del poliziotto Che gli fa mettere fretta Piano piano Ma questo Ma questo Ah ma perché Oh c'è 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 pelato Che ho butto da water Che ti fa? Ho capito Non devo Non devo sbabbare Questo coso Forza Forza Vai Che schifo Ah ma sei super Brava No Eh Ma perché così C'hanno sti cosi qua Perché devi Devi metterli lì Ma c'è un'icaccia Avete? Guarda Io non ho capito Eh ma mi fatti passare Queste maledette cattive Ragazzi il trucchetto è di prenderne uno E portarlo Brava Eh Dovevi fare la stessa cosa Sì Patatina Dai forza Fatti qui braccio tu Eh Devo fare Ah io sono tutta indolenzita ragazzi Mi fa male tutto stamattina Andiamo Allora Io sono Gin gin Chichi Io sono Gin gin Chichi Gin gin Chichi Metti bene Questa cosa Ecco Ecco qui Tutto cade oggi Tutto ok Tutto ok Ehi Ecco E chi è lui? No non dimmi Che c'è di nuovo No Dai Ehi Ma non si vede Lei Questa qua Mettila bene Bene dai Arriva e poi Gira giù Non lo so No ma C'è lo spazio Non lo so io Così Sì Prendilo Brava No No Cazzo Top Rola Allora Ecco qui Brava Brava Vediamo se riesce Poggio Eh no Saremo qui un'eternità Ci metteremo una vita Ok Ora concentrazione Ok 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 di nuovo Lei ce l'ha fatta Io no Ecco qui Ecco qui Oh mannaggia Non so più cosa devo fare Eh vediamo Oh mi sbatto la testa al muro Concentrati Concentrati Tutto Oddio È attrapassato Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ecco Chi è questa Molto bella Molto bella Questa qua Ok va Aspetta Ah brava Attenta Eh mannaggia Questa qui L'ho un pugno Che la faccio volare Ecco Ok Ok Brava Siamo bravissima Allora questa Qui L'entrata Si invade Ma io non so che devi Forse tendere là Schiaccia con il pulsante Ma il pulsante mi fa cacciare le scatole Ah ok Brava Ah lì devi andare Brava Brava Bravissimo Eh vabbè Può succedere Dai No Meno Deve succedere mai Ok Ok Brava Ragazzi Vi sto appassionando Questo escape Molto carino A me no Non ti piace No Non tanto E tipo scappiamo dalla polizia Taferno Ok Brava Ok Super I trampolini Wow Questi sono bellissimi No No Al secondo Al secondo salto Bravo Mannaggia 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 Io quando perdo mi nervosivo che divento un toro No Torero Vai 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 Ok Ce l'ho fatta Ok vai Aspetta Yeah Aspetta 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 Bravissima Qui c'è la macchinina Blu blu Ok Guarda Sarà difficile No Non è difficile No Che è Wiii 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 Voglio essere veloce Ho acceso il fuoco Vrub 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 Ecco Che ho fatta Yeah Ok 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 Mero male che deve essere bello Con la macchina Vrub E' perchè questa mamma parla Alla fine è colpa mia Va bene Ora concentrazione Concentramento 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 No no Allora io mi sto infuriando Ok Perchè ora gli do un pugno a sto gioco Abbiamo capito? Dai aspetta Vai piano Che ho fatto? Ah Ragazzi qui Devo stare fermo Perchè devo accedere qua Questo Ah ma sei più difficile Quello è il tratto più difficile Sì Vediamo se ci riusciamo No L'ho fatta Se l'ha fatta ragazzi Dopo un'ora di tempo Ecco Gigi pelato Open 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 vuol dire aperto Ah io lo so Ma perchè c'è sempre questo Gigi pelato? Non ne ho idea Da tutte le parti eh Beh devi aprire tutte Ah Questo è tipo scappa dalla poliziotta Dalla famiglia sono tutti Ma che devi fare? Questo cacciavite devo svitare a qualcosa Oppure devo svitare la faccia a quella poliziotta Devo svitare la faccia a quella poliziotta Devo svitare la faccia a quella poliziotta Ah probabile Dai andiamo Ah ti serve questo? Ma che l'ho fatta subito 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 a carabinare Ah c'è Bebe Che devi fare? Guarda lo devi sparare Quindi sei arrivato all'ultimo Si Col balzuga Col balzuga Col balzuga Col balzuga Vai spara Bazzuga 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 Spara la stella La stella alla testa Spara 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 Non fa nulla lui Ah non succede niente Ah l'ho fatto esplodere Brava L'hai sconfitto Si C'è la macchina blu Vai vai dai Che sei libera sei uscita dalla prigione Gira Si Si Sono rientro a Begg Brava Ragazzi Ho superato l'escape E' riuscita Bravissima Questo che cos'è? Questo cos'è? Brava E' finito il gioco Giusto? Si sono rientrato da capo Però ho finito Bravi ragazzi E' stata super super brava Lasciateci un like mi raccomando ragazzi E iscrivetevi al canale Noi vi mandiamo tantissimi baci E come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao Tanti saluti anche dalla piccola Aurora Ciao Ciao